Grazie 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 C'è proprio la passione di passare il Natale Costruendo la tenda Grazie 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 Stefano voi dormirete qua stanotte? Tendenzialmente questa è la prospettiva La prospettiva è questa La prospettiva è questa Fin qua non avremo qualche risposta Decente però non parole Speriamo qualche fatto Anche in tweet va bene Anche in tweet Visto che l'anno scorso è stato così Speriamo Troppo allo rimbalzare E E Scusate Ok 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 Va bene Ciao Ciao Scusate Così Cos'è che arrivano? Abbiamo bisogno delle brandine per non dormire per terra Speriamo che la protezione civile o gli scout ce le mandino Adesso non so chi provvederà Speriamo che abbastanza E Ciao Allora